Venatti, ti hanno tremato le gambe sul rigore? No, sempre. È un momento un po' particolare, ma cerco di stare sereno. Senti, tu lo sapete che ti voleva il Frusilone un paio di anni fa? Sì, ho sentito qualche voce. In qualche occasione ti ha visto giocare un po' fuori dall'area. È una tua caratteristica o è successo solo oggi? No, mi piace venire un po' fuori e tenere palla. Senti, è stata una partita dura, una partita tosta, come si dice in gergo, ma che avete tirato via con un punto meritativo. Sì, è stata una partita sofferta per noi, ci ha risolvuto in settimana. È una squadra forte, Frusilone, per cui sta in prima classifica. Era difficile, noi abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo portato a casa il punto fondamentale. Per chiudere, è bello fare il rigore sotto i tuoi tifosi. Sì, è bellissimo. Sempre fare gole bello, ma soprattutto che la squadra porti a casa è un partito importantissimo.